Siamo all'aeroporto di Valermo, aspettiamo che il gate apra e poi andiamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. ? a tutti. 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 ho piatto? io sono piatto? Ah, perché sono troppo semplice. Eh, ma è finito, che c'è a fare? Torniamo a Trapani e piango il dovere. Ciao! Sono troppo triste, io non ce la faccio, però sono troppo, anche fin 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 troppo. Ma perché sei gentile? Come ti senti? Eh, ma vuoi essere una cosa triste? Ma contenta di tornare? E' un minuto, un minuto, un minuto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti